Marco Damilano, prego. Ma mi aggancio proprio a quest'ultima cosa che ha detto il segretario Letta. Due domande. La prima, per la Presidenza della Repubblica è possibile che la politica candidi un politico, un uomo o una donna politica? Cioè qualcuno che ha fatto lo stesso percorso di Davide Sassoli. La seconda, andiamo più in profondità su quel tavolo. Berlusconi, se c'è Berlusconi, a quel tavolo non c'è. Giorgia Meloni in questo Parlamento conta poco, molto meno di quello che dicono i sondaggi. Quindi andiamo al vero capo del centrodestra che governa con voi il Paese, cioè Matteo Salvini. Lei cosa chiede a Matteo Salvini? Cioè lei è disposto a stringere un patto con Matteo Salvini sul Presidente della Repubblica, sul governo e sul futuro della legislatura, sulla fine della legislatura? Il capo del principale partito del centrosinistra, cosa chiede a Matteo Salvini che è il capo del principale partito del centrodestra? Guardi, la mia risposta alla sua domanda è sì. So che devo farlo, è mia responsabilità e lo farò non da solo. Sì, una cosa gli chiede. Chiedo che facciamo un accordo sul Presidente della Repubblica, super partes, sul modello di quello che è stato Mattarella in questi anni e credo che si possa fare, in secondo luogo che ci si dica che cosa vogliamo fare nell'anno che viene della legislatura, anno che secondo me deve avere un governo che sia in grado di continuare le cose che si stanno facendo adesso, cioè la campagna vaccinale per la terza dose che è assolutamente fondamentale, le scuole che rimangano aperte in sicurezza, tutte le cose che ci siamo detti, sapendo che poi ci divideremo alle elezioni, quello sarà il passaggio chiave, ma io ritengo che questo debba avvenire. Se poi Salvini preferisce raggiungere Giorgia Meloni all'opposizione, è evidente che questo è un altro scenario, però quest'altro scenario poi ha bisogno di capire se ci sono... O restare agganciato a Berlusconi. Devono chiarirci loro che cosa vogliono fare. Salvini, tu hai tre strade, restare agganciato a Berlusconi, cioè al passato, andare all'opposizione con la Meloni, oppure ce la giochiamo noi il futuro del Paese alle elezioni tra due schieramenti alternativi. Dopo aver fatto tutto questo, è un pacchetto unico, presidente e governo. Governo e legge elettorale. Riforme istituzionali, non metteteci sulla legge elettorale, per me io metto accanto la legge elettorale, la questione del no al trasformismo della politica, il bloccato. Questo è il pacchetto che lei offre a Salvini. Lei è conte, diciamo. No, attenzione, ecco, perché il punto è molto chiaro. Ah già, ci sarebbe anche io. Ce l'eravamo dimenticato, non sappiamo perché. Ce l'avamo dimenticato i voti in Parlamento, diciamo. Perché voi siete maliziosi, quindi volete... Ma lui non se ne è. E' lui che incide poco, forse. No, siete maliziosi voi. Ma il punto è, noi in questo Parlamento siamo il 12%, perché abbiamo perso le elezioni del 18 e abbiamo subito una scissione. E soprattutto, alle prossime elezioni andremo in un'alleanza che sia un'alleanza che comprenderà il movimento guidato da Conte. Quindi io quello che vorrei fare e che farò è gestire tutta questa fase, abbiamo creato un patto di consultazione, lo stiamo facendo, lo faremo, non ho nessuna intenzione in questo momento di sfasciare tutto questo per andare a ricercare intese individuali che non reggeranno. Aprile, tra l'altro...